buongiorno sono le 7.45 del mattino e ora stiamo per andare in tazione più o meno madonna quanti vicini mi fai cazzare noi stiamo per andare a ferrara giustamente e niente carlo saluto ciao buongiorno siamo dove siamo adesso per andare dove perfetto quindi mi dica qualcosa cosa cosa aspetta oggi ma no staremo a vedere e niente siamo entrati dentro come vedete come vedete come vedete come vedete come vedete Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giusto, giusto. La mia vita è realizzata. Ho appena visto questa roba troppo figa. Come c'è pranzo? È meglio. Vabbè, buon appetito, ciao. Allora Carlo, parlaci un po' della fiera. Boh, quello che ti passa per la mente. Allora, un po' della impressione. Gigi. E tu invece? Sì, la domanda non c'è bisogno. Perché non c'è bisogno di te? Perché sì. Sì, la domanda non c'è bisogno di te. Dovevo portare uno specchio, così riflettevo. E ti rifrendevi di solo. Gigi. Ma... Invece com'era... Com'era il panino? Come? Com'era il panino? Perfetto. Questa è un po' di vista. Sì, ho capito. La confezione è che come supporto te l'hai ancora così, hai visto? No, così mi vedo io. Esatto, che bello. Fa' il culo. Fa' il culo, Carlo, fa' il culo. Va bene, dai, ora parlando di cose serie. Quindi come ti sembra? Bello. Sì, sì. Molto, molto bello. Sicuro? Sì, sì. E niente, adesso è finito pranzo, quindi adesso stiamo registrando un altro video. E siamo qua fuori adesso. C'è Carlo a telefono. E quindi vabbè, di oggi fa così. Vabbè. Niente, adesso andrò a registrare probabilmente. Quindi ciao. Ciao. no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puoi dire qualcosa dopo l'ultima volta? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.